Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su eSports FC24 sulla Playstation 5 Ed è il primo video che faccio sulla Playstation 5 e su eSports FC24 Oggi proveremo FIFA 24, eSports FC24 Anche se l'ho già provato, però solo adesso sono riuscito a mettere il mio canale YouTube sulla Playstation 5 Visto che sono riuscito a metterlo ragazzi, ovviamente quando uscirà Spider-Man 2 Io lo finirò e poi lo ricomincerò registrato, perché me lo voglio un po' godere Quindi, allora, oggi andiamo direttamente a fare un calcio di inizio per vedere un po' la situa Quindi, non so che partita fare Proviamo subito con il nostro massimo Quindi andiamo partita classica e mettiamo la Juve contro l'Inter, che lo odio Ok E dove è l'Inter? Non è Juventus Dove è l'Inter? Eccolo qua Ok, maglia della Juve e maglia dell'Inter 6 minuti? No, perché deve durare un po' Cioè, non lo so Allora, 4 minuti Campione Ok Ci proviamo, campione Io gioco sempre in esperto Quindi vediamo un po' Guardate intanto che bello l'Allianz Stadium da fuori Ok Juventus-Inter Vediamo un po' Vediamo un po' se riusciremo a vincere Perché io di solito Cioè, sono bravo Però in modalità esperto Cioè, io non so giocare, secondo me, in campione Però Ecco, mi hanno già fatto gol Però Non hanno toccato neanche palla Quindi vediamo un po' quando la tocco, ragazzi Dribbling ancora lui Cioè, lo stop Bastoni Ok Lautaro Però lo odio Vediamolo qua No E mi sa che mi ficcano un altro gol Ok Paragona di Scesi Vediamo un po', ragazzi E comunque, quindi, ragazzi Porterò anche episodi di Spider-Man 2 E se volete E se volete anche di Miles Morales Elimino quelli vecchi E faccio completamente il nuovo Ehm, anche Ma perché? Ma Ma cos'è? Ma cos'è stato? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma vabbè Comunque, ragazzi Ditemi se vi sta piacendo E-Sports FC24 Se vi sta piacendo Tutta la Play 5 Che magari voi ce l'avete da due anni in più di me Perché io l'ho comprata adesso Non adesso Magari Dieci giorni fa Ehm Quindi, ragazzi Ditemi se vi piace E-Sports FC24 E poi, subitamente Dopo Ehm Dopo Che è uscito Spider-Man Chi l'ha comprato Mi dovete dire Nei commenti Se vi piace o no Beh, sicuramente A me Fan da Spider-Man Mi piacerà un sacco E inoltre So anche la storia Di tutti gli altri Spider-Man Quindi È molto facile capire per me Poi Se voi Non sapete tanto la storia Compratevi Anche I primi due Magari Quello usato Di Spider-Man Martin Morales Può costare fine 40 euro Secondo me Poi Ehm Spider-Man Il primo Peter Parker Costa 30 euro O 40 Se non mi sbaglio E quindi Poi Vi comprate anche il terzo Così almeno sapete tutta la storia Boh Questo è un consiglio Io poi Cioè Lo so già la storia E c'ho Spider-Man Miles Morales E il primo Purtroppo Si è rotto Si è rigato Quindi Non posso più portare video Però Non so se me lo posso ricomprare Per avere Per avere La collezione Degli Spider-Man E sarebbe anche molto bello Perché Mi manca un po' L'ambito Spider-Man Peter Parker Mi manca Mi manca Quindi vediamo un po' E tra zero Ma assurdo Appena ho messo la modernità Campione Boh Comunque Comunque Ditemi se Vi piace questa grafica Di Esports FC 24 Boh Però un po' Gli facevo gol Vabbè Ovviamente Occasione sprecata Ok E ovviamente Ragazzi Se arrivo Ai Ai Mille iscritti Al 500 iscritti Scusatemi Ovviamente Coprerò la webcam Per giocare alla play E con la faccia Quindi Iscrivetevi se volete I video fatti Non voglio dire bene Perché già li faccio bene I video fatti ancora meglio Con la webcam Così vedete la mia faccia Mentre sclero Intanto facciamo questo cambio Chiesa Kenno Quindi Non so Vai Oh ma raga Ma non riesco a piccargli un gol Ma che cacchio è questa roba Eh Boh Guarda poi la lancio basta Che colpa mia Quindi ragazzi Iniziata la scuola Ovviamente Non farò tanti video Anzi Ne dovrei fare Molto meno Di quanti ne sto facendo Però Quando posso Ve li porto i video Eh Quando posso Ve li porto Tranquilli Cioè io Io penso sempre a voi Ai miei iscritti Come caccio di No Paratoria Di sce Ma che parata No Ok Ragazzi Devo recuperarlo Questo tanto è 3-0 Si può Ce la si può fare Ce la si può fa Vai Kenno Vai Mose Vai Mose Si No Che bru Ma perché L'hai presa Ok Primo tempo finito 3-0 Per l'Inter Che schifo E ora vediamo se la Juve si sblocca un po' E non credo proprio Ragazzi Comunque Scrivetemi anche nei commenti Se vi piace Che squadra ti fate Ecco E Tutti quelli che ti faneranno Che scriveranno Juventus Che ti fanno Di mettere un like Al commento Quindi Boh E tranquilli perché io li vedo i commenti Che mi scrivete E Boh Comunque ragazzi Ho notato che prima Non so Tipo 10 giorni fa Era Ma ho 49 iscritti E ora siamo 85 Madonna mia Mi avete fatto salire un sacco Grazie E quando li vedremo 100 Farò uno speciale E Non è tanto speciale Perché Non so se Vi piacerà Però Dai Non è male Non è un video parlato Perché Ve lo spoilerò No Perché vorrei Vorrei spoilerarlo Ma no E Non è un video parlato Però Può piacervi Secondo me E poi È una cosa Che pubblico Sul mio canale E Boh Allora Facciamo sto cambio McHenny Wea Che Wea Non fa mai male Comunque ragazzi Parere mio Il spot F24 Mi sta piacendo I miei Fratelli Dicono Che sembra PES Però Non è vero Facciamo sto scambio Blau With Milik Così Arriviamo a Milik Che è schifo Comunque ragazzi Lo sapete che Il 22 C'è Guardate che mi fanno Un altro gol E pubblicherò Il 29 ottobre Oppure il 30 Spider-Man E io l'avrò già fatto Però non vi voglio Spoilerare nulla Non vi voglio Proprio spoilerare nulla Apposta per Per non spoilerare nulla Lo facciamo insieme Anche se io lo saprò già Ok Dai Tra un po' finisce Comunque ragazzi Ho notato Che c'è Che io Sulla play Pensate che è uscito Roblox E' assurda Questa cosa Mi sembra una cosa Un po' assurda Roblox Sulla play Lo sapete che io Lo odio Roblox Però Tanto per averlo Me lo sono installato Poi Chiedetemi se volete Video di roblox Magari Sul Sulla play Chiedetemelo Perché io posso farli E Non so Lo volete Video di roblox Magari Vi dite anche la modalità Il nome della modalità Che vi Vi piacerebbe Vedere da me Tra un po' Mi fate un altro gol Ehm Ok Vabbè Comunque ragazzi Certo che Gli acquisti Della Juve Questa stagione Non è che sono stati Dei migliori E Wea doveva Ma che caccia 5 a 0 Vabbè Wea doveva essere Così tanto Un grande giocatore E intanto è una cacca Cioè fa schifo Quindi Mi aspettavo di più Da Wea Poi Finchè non segna il primo gol Io non ci credo Che è forte Quando segna il primo gol Ci credo un po' E poi quando segna Almeno 7 gol Ci credo 100% Guardate Quadrado Con il numero 7 Che schifo Comunque ragazzi Spiderman 2 Io non vedo l'ora Infatti sto facendo Praticamente il countdown Domani martedì Ed esce venerdì Ehm Non vedo l'ora Perché io voglio Giocarci ragazzi Non vedo proprio l'ora Perché in questi giorni Sto solo giocando A Maris Morales E sapete un po' No? Che io l'ho già fatto Almeno 100 volte Vabbè Il portiere qui dice di no Sì comunque Non mi aspetto tanto La Spiderman 2 Però può portarmi Molte soddisfazioni Qui c'è Venom Lizard Se è veramente così Io esplodo Perché Sono fan di Venom E anche Lizard Lizard in teoria Dovrebbe diventare Osborn Il figlio di Harry Osborn Non era posizionato bene Cioè non lo so eh In teoria Tanto adesso ragazzi Mi faccio fare gol a gol Comunque Ehm Mi sa che Osborn Il Venom Quando Uscirà Dalla Dal Dal veleno Non so Da quella cura Che aveva la malettia Comunque vediamo Beh Scopriremo tutto Il 20 Scopriremo tutto Il 20 agosto Tra l'altro Forse ragazzi Il 20 agosto Non c'è neanche scuola Da me Quindi sono molto felice Perché Posso svegliarmi alle 7 Ehm Posso svegliarmi alle 7 E andarlo a prendere direttamente Bello Bellissimo Ehm Voglio solo farvi un tour Esci dalla partita Voglio solo farvi un tour Della mia carriera giocatore Che non registrerò Però volevo farmi un tour Sono andato prima Al Alla Juve Poi al Tottenham E ora sono al Liverpool Io ho 7 milioni E guardate La mia carriera Allora 250 mila euro A settimana 81 milioni euro Stipendio Che è un valore di mercato 81 milioni Poi ho fatto 5 assist Di cartellini 4 gialli E 1 rosso E di goal 145 Dai Non mi potete dire Che è buono Poi il gioco Sos è quasi titolare Quindi Non ho problemi Quindi ragazzi Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto E ciao